La salute dell'occhio è fondamentale per conservare la propria capacità visiva, essenziale per la qualità della vita e l'autonomia personale, sia nelle attività quotidiane che nel lavoro. Per questo motivo non va trascurata né sottovalutata e per salvaguardare la propria vista è molto importante affidarsi a specialisti esperti e a centri di eccellenza. È nato con questa mission, il Centro Medico Oculistico Oftalmica Gran Sasso. Si trova all'Aquila ed è una clinica oculistica realizzata da tre oftalmologi esperti, i dottori Germano Genitti, Stefano Gentile e Dino D'Andrea. È specializzata nella terapia medica, laser e chirurgica delle patologie oculari. Nella clinica oftalmica che è stata autorizzata dalla ASL dell'Aquila e dalla Regione Abruzzo, i dottori Genitti, Gentile e D'Andrea vengono coadiuvati da altri oftalmologi e da un'equip di anestesisti di comprovata esperienza. Il Centro Medico è covid free e tutto il personale vaccinato per il coronavirus e tutti i pazienti che accedono alla struttura vengono sottoposti a test antigenico rapido. Dottore Genitti, come nasce questo Centro Oftalmico? Oramai da 4-5 anni esiste questo centro e è nato grazie all'intuizione di alcuni colleghi oculisti, compreso me, che hanno voluto creare un centro oculistico totalmente privato perché c'era anche esigenza nei nostri pazienti di avere una possibilità di seguirli anche in privato, anche chirurgico, perché ci veniva spesso richiesto. E quindi abbiamo voluto realizzare questo centro che è stato autorizzato dalla ASL e dalla Regione Abruzzo e che è diventato un punto di riferimento per tutti i pazienti che vogliono effettuare visite, indagini diagnostiche e interventi chirurgici totalmente in regime privato. Naturalmente è un pool di medici oculisti e anestesisti che lavorano in team per effettuare una serie di interventi chirurgici di tutte le tipologie. Le persone che si rivolgono a voi arrivano anche da fuori regione? Sì, sì, come no, arrivano sicuramente anche da fuori regione, sono pazienti che seguiamo e che quando abbiamo bisogno di un approfondimento diagnostico cercano questo centro perché ecco c'è persone che casomai non hanno tempo di gestire le visite, gli interventi chirurgici con le liste di attesa dell'ospedale e quindi in modo soprattutto maggiore in questi ultimi tempi in cui purtroppo viviamo la problematica Covid e quindi questo centro possiamo definirlo un centro Covid free perché tutti i pazienti che entrano vengono sottoposti a tampone antigenico, tutto il personale, tutti i pazienti, noi medici oramai siamo tutti vaccinati e comunque sottoposti anche noi a test antigenico ogni volta che barchiamo la soglia del centro. Quindi in questo momento i pazienti ci richiedono questo tipo di prestazione che è una prestazione sicuramente più veloce per chi è nel mondo del lavoro e ha bisogno appunto di risolvere una problematica visiva nel più breve tempo possibile in sicurezza. Il centro medico unico del genere in Abruzzo è specializzato negli interventi chirurgici di cataratta con impianto di cristalline artificiali a profondità di campo e multifocali che correggono sia la visione per lontano che quella da vicino. A differenza di altre del passato queste lenti intraoculari permettono una visione nitida a tutte le distanze senza utilizzo di occhiali e in assenza di aloni molto fastidiosi come succedeva fino ad alcuni anni fa. Dottore Gentile, quali interventi vengono effettuati in questo centro oftalmico? In questo centro oftalmico vengono effettuati interventi sia di cataratta che interventi per glocoma. A differenza di altre strutture in questo centro vengono effettuati interventi ad alta tecnologia che prevedono impianti di lenti multifocali che sono praticamente l'ultima novità in fatto di intervento di cataratta perché consente una visione nitida sia da lontano che da vicino mentre i normali cristallini artificiali consentono una visione nitida o da lontano o da vicino. E quindi soprattutto per persone che hanno problemi lavorativi di computer o altro consente di essere affrancati completamente dall'uso degli occhiali e quindi ripristinare una normale visione sia da vicino che da lontano. È chiaro che questo tipo di intervento non può essere effettuato su qualsiasi occhio ma è necessario intanto che sia completamente scevra di problemi a livello retinico. Però è sicuramente un grosso passo avanti nella risoluzione dei problemi visivi. Tu è frequente il problema della cataratta. Sono tanti i pazienti che si rivolgono a voi? Il problema di cataratta è dovuto anche all'invecchiamento della popolazione e quindi è diventato un problema sociale molto importante. Dovete tenere presente che oggi nel mondo l'intervento che si fa più frequentemente sul genere umano è l'intervento di cataratta. Nonostante questo, essendo un intervento ad altissima tecnologia e con costi elevati, la cataratta è ancora la prima causa di cecità nel mondo. E quindi capite bene che il problema cataratta che alcune volte viene semplificato è un problema che investe tutta la società sia per gli alti costi sia per la frequenza che investe tutto il genere umano. Noi abbiamo una buona risposta da parte dei pazienti che si rivolgono alla nostra struttura soprattutto per i tempi e la tecnologia che viene messa a disposizione. La vediamo qui in attesa. Sta aspettando un paziente che si sta sottoponendo ad un intervento chirurgico. È dell'Aquila? Sì, sto aspettando mio marito che si sta sottoponendo all'intervento di cataratta. No, non siamo dell'Aquila, siamo rumeni, siamo della Romania, però viviamo all'Aquila da 14 anni ormai, quindi ormai siamo abruzzesi. Perché avete scelto proprio questo centro oftalmico? È perché il dottore Genite è risaputo che è molto bravo, poi c'è un'equip specialistica molto competente, brava e il centro è veramente rinomato. Il tuo marito si sta sottoponendo ad un intervento di cataratta. Come ha scoperto di averla? Soprattutto quanti anni ha? Mio marito è molto giovane, ha 40 anni, ancora non compiuti. L'abbiamo scoperta da pochissimo tempo, con cinque mesi fa, una visita. In un giro di questi cinque mesi è peggiorata tantissimo la cataratta, quindi si deve fare assolutamente, anche perché con il lavoro che fa in cantiere guidando mezzi comunque è necessario avere una buona vista, quindi si doveva fare assolutamente. Lei è molto giovane, si sottopone periodicamente ai controlli medici e soprattutto va spesso dall'oculista? Una volta all'anno, sì una volta all'anno, non di più, non avendo problemi per il momento non spessissimo, però sì, quando è necessario assolutamente. Poi il dottore è così bravo che si viene anche per il piacere di farsi una chiacchierata. Nel centro medico oculistico vengono effettuati interventi chirurgici innovativi per il glaucoma come il trattamento con laser micropulsato, l'inserimento di Xen o valvole filtranti. Anche per le maculopatie vengono eseguiti trattamenti con iniezioni intravitreali con farmaci innovativi. Nella clinica oculistica oftalmica Gran Sasso si eseguono trapianti di cornea selettivi ed interventi di chirurgia vitreoretinica. A livello diagnostico si eseguono campi visivi computerizzati, OCT della macula e del nervo ottico, topografie corneali e tutti i test per la diagnosi precoce di glaucoma, oltre a trattamenti laser per la cataratta secondaria. Il centro è dotato di una sala operatoria moderna realizzata con materiali innovativi come il D-Bond e il Barisol e strumentazioni d'avanguardia tra i quali un microscopio Zeiss Lumera con callisto e vari facovitrectomi e un'area laser, una zona sterilizzazione e un'area per il riposo dopo l'intervento chirurgico. Dottore D'Andrea, le patologie delle quali vi occupate sono quelle retiniche e il glaucoma. Quanto sono diffuse tra la popolazione e quanti pazienti si rivolgono a voi e come li trattate? Questa clinica ci occupiamo anche di chirurgia viruritinica e di glaucoma. Il glaucoma sappiamo che è una patologia che interessa il 3% della popolazione. Eseguiamo interventi di ultima generazione, oltre che interventi sul glaucoma tradizionali. Utilizziamo dei device, cioè dei tubicini che drenano l'umore acqua dall'interno dell'occhio verso l'esterno, l'Oxen 45, l'Express, le valvole Hamed e altri tipi di drenaggi. Utilizziamo anche dei trattamenti laser e laser di ultima generazione. Qui abbiamo a disposizione un laser che è l'Iridex e il G6. L'Iridex ci tratta di tutte le patologie retiniche, dalle retinopatie diabetiche alle maculopatie serose centrali, agli edemi maculari, diabetici e oltre. E il G6, che è l'altro tipo di laser, lo utilizziamo invece nei glaucomi. Sono dei laser che sono in uso in pochissimi centri in Italia e questo è un fiore all'occhiello per la nostra clinica. Per il trattamento sia della chirurgia viruritinica sia per il glaucoma affluiscono da altre regioni, in particolar modo dalla Calabria, dalla Campania, dal Lazio e anche dalla Sicilia vengono in questo centro. Trattiamo tutti i tipi di glaucoma. Voi sapete che è bene trattare chirurgicamente e con la parachirurgia il più precoce possibile. E quindi trattiamo pazienti che sono in terapia farmacologica, anche con una sola molecola. Invece nella chirurgia viruritinica riusciamo a trattare tutte le patologie viruritiniche dai distacchi di retina ai pachri maculari e ai fori maculari ed è una patologia che la si segue in pochissimi centri nel centro-sud. Ecco perché abbiamo una grossa affluenza da tutte le regioni del centro-sud. Con quale frequenza ognuno di noi dovrebbe sottoporsi a visite oculistiche, quindi dallo specialista in oftalmologia? Il glaucoma è una patologia asintomatica e la scopriamo il più delle volte in una visita oculistica normale. Cioè viene da noi un paziente che ha una sintomatologia tipo una congiuntivite, un'irritazione, un bruciore e lì misuriamo la versione e troviamo la versione alta. Quindi è importante la prevenzione, è importante la visite oculistica e prevenire queste patologie asintomatiche all'inizio. A maggior ragione adesso in questo periodo di pandemia da Covid-19 qualcuno ha paura a sottoporsi ai controlli? Cosa vuole dire a chi ci sta seguendo? Il glaucoma necessita di interventi periodici, diciamo un controllo a seconda dei tipi di glaucoma ma la media diciamo sono ogni 3-4 mesi. Perché questo? Perché purtroppo i glaucomi sono evolutivi nel tempo e quindi solo il controllo e la misurazione del tono ci può dire come va l'evoluzione del glaucoma. In questo periodo i pazienti hanno paura del Covid-19, tornano da noi a distanza di 7-8-9 mesi e questo non va bene. Vogliamo tranquillizzare tutti i pazienti in quanto qui facciamo dei tamponi prima della visita, prima degli interventi chirurgici, un tampone rapido che in 5 minuti noi riusciamo a sapere se il paziente ha dei problemi o meno. Se ha dei problemi ovviamente rimandiamo la visita e il trattamento chirurgico. Grazie. Grazie.